New Well Technology, siamo in compagnia dell'ingegnere in saldatura Alessandra Buono. Ingegnere, quale ruolo ricopre presso la New Well Technology? Io sono principalmente un lead auditor per un ente di certificazione ITEC che ha sede a Prato, per la ISO 9001 che è una certificazione di sistema, aziendale di sistema, per la 3834 invece che è una certificazione aziendale di processo e la 9001 che invece è una certificazione aziendale di prodotto. Quindi sostanzialmente vado presso le aziende a verificare e a certificare questo tipo di certificazione. Inoltre effettuo anche corsi specifici per le aziende che lo richiedono, che magari avviano delle nuove produzioni con materiali speciali sulla metallurgia e la saldabilità e effettuiamo anche corsi sui controlli non distruttivi come liquidi, penetranti, visivo, magnetoscopia e effettuo anche corsi per l'attività di coordinamento della saldatura, il livello B che è quello base e inoltre sono anche sempre per l'ente di certificazione ITEC un esaminatore, quindi effettuo gli esami per i saldatori e per i procedimenti di saldatura presso le aziende. Principalmente ecco queste sono le attività, comunque tutto ciò che ruota anche per esempio risolvere problematiche come in produzione magari a volte capita che ci chiamano le aziende che hanno dei problemi per quanto riguarda il processo di saldatura, quindi magari i cricche che si formano durante la saldatura o dopo in fase di raffreddamento vengo chiamata per verificare quale potrebbero essere le cause che a volte sono umane, a volte invece sono proprio degli errori di processo o problematiche relative al materiale. Quindi diciamo anche questa funzione è un po' da investigatore, metallurgico diciamo così. E ecco principalmente sono queste. Ringraziamo l'ingegnere Alessandra Buono, New Well Technology, via Salvatore Di Giacomo Otto, a Taverne di Corciano, Perugia, telefono fax 075 5178001 www.newwelltechnology.ic Tecnologia e qualità al servizio del cliente